Nuova giostra del Saracino e nuova lancia d'oro. Mentre prosegue il percorso di avvicinamento per l'edizione di settembre, quella dedicata alla Madonna del Conforto, è stato presentato anche il nuovo trofeo che andrà al quartiere che si aggiudicherà la sfida contro il re delle Indie. Il bozzetto è di Filippo Meligrana e come di consueto la realizzazione è del maestro Francesco Conti. Realizzazione resa possibile dalla famiglia Giannetti e alla loro storica azienda Cadla del gruppo Despar, il ricordo del fondatore Ennio Giannetti. La notorietà di Vedi, di cui ricorre il secondo centenario della nascita, è così grande da aver indotto il comitato organizzatore a dedicare la lancia d'oro ad un personaggio che non ha avuto grandi rapporti con Arezzo. Egli ha avuto il beneficio storico di poter rappresentare l'unità d'Italia, lo spirito risorgimentale, l'indipendenza del nostro popolo, la ricerca di uno spirito unitario che anche oggi, se fosse ricordato, farebbe bene. E in merito alle polemiche sollevate sulla scelta di una figura con scarsi legami alla città, il consulente storico della giostra del Saracino, Luca Berti, ha spiegato. Il comitato organizzatore si è lasciato questa libertà in caso di personaggi così importanti, così celebri, Verdi praticamente, è l'opera in Italia nell'Ottocento, la musica, quindi c'è anche questo legame con la nostra città, il concorso polifonico, quindi non è una scelta dovuta a questi motivi. Grazie a tutti.